Ma si aspettavate il nodo dell'outline? Guarda, non ce l'avamo posti più di troppo, per noi è un piacere invitare persone che la pensano diversamente da noi e confrontarsi, ovviamente non è che c'era né aspettativa né delusione, abbiamo comunque fatto un invito perché secondo noi poteva essere una buona occasione, il leader del Partito Democratico ha fatto un'altra scelta, ovviamente l'abbiamo rispettata e non c'è alcun problema. Ma lei ha chiesto un confronto con Meloni o ha semplicemente detto di no? No, non c'è stato, ovviamente non ci sono stati problemi sulle modalità di partecipazione, è stata una scelta, comunque chiedete a lei le motivazioni per cui ha declinato l'invito, ma non ha fatto alcun problema di collocazione all'interno della festa, è stata una scelta politica e molto serena, non c'è stata frizione da questo punto di vista.